Ciao ragazzi, siamo qui con Leonardo Mann che ha fatto top 4 alle tracce del Drago. Svizzera ho chiuso 3-1-1, ho vinto contro un Virtual Brave e contro uno Splite Evil Twin. Ho pattato contro uno Splite e purtroppo ho perso un mirror match del ragazzo che poi ha vinto il torneo. Perché lui è doveva vincere il torneo. Perché ho perso al tempo, perché sto anche con una lista un po' mezza budget diciamo. Vabbè, comunque passiamo alla lista. Chi hai giocato? Ho giocato Raie. Ok. E in top o che è andata? In top vabbè, ho vinto in top 8 contro un buy che giocava Eldritch Brand ed è purtroppo... Ho perso in top 4 contro il cameraman perché G2 mi ha tirato virus, G3 ho briccato. Vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. Vai con sta lista. Allora, la lista è Sky Striker con le Entrap purtroppo. Personalmente preferisco giocarlo con tante magie, ma considerando che non avevo le Storm ho optato per le Entrap. Allora, gioco. 3 Raie e 2 Rose. Non 3 Rose perché gioco le Mine, non 1 Rose perché poi bricchi. Monorota, Monodroni Calabroni. Poi appunto le Tre Mine, carta più forte del mazzo, con Metaverso. Poi vabbè, Terraforming e l'Area Zero. Per quanto riguarda le Magie Sky Striker vabbè, 3 di questa, 1 di questa, 1 di questa. Poi ho giocato Jamming Wave e Spolverino perché avrei voluto giocare Storm, non avevo Storm, quindi ho optato per questa versione un po' più budget. Che però, devo dire, non mi è dispiaciuto affatto. Ste due carte sono davvero molto forti. Molto versatili, appunto, in varie situazioni. Poi... Il Vai non è d'accordo. Monoshark Cannon con Monocolled. Multiroil che vabbè, lo devi giocare. Poi ho giocato 2 Desire e Abstract. Non 3 Prosperity, questa volta non è stata una scelta dettata dalla povertà, no. Non perché non ce l'ho, comunque preferisco queste carte a Prosperity perché io gioco il mazzo in maniera molto aggressiva, quindi l'extra lo uso, alle volte lo uso anche tutto. E diciamo che Prosperity non... Come fai a non bannare monocopie di Desire tutte le volte? Le monocopie di Desire? Sì, come fai a non bannarti mai Engage? Eh, mi prendo prima Engage e poi prendo Desire, ma poi c'è anche che mi banno Engage, sto mazzo non deve vincere con Engage, deve vincere con la skill, deve vincere con Ayate. Poi le Entrap sono... Le Entrap sono parecchie, sono 3 Ash, 3 Impermanence, poi 2 Ogre, 3 Veiler e 3 Nib. Allora, l'unico motivo per cui gioco Nib è che gioco anche Veiler, soltanto che Veiler fa un po' schifo, quindi vorrei giocare 3 Corvi e 3 Bell o qualcos'altro, però Veiler lo devo giocare perché faccio combo Selene e niente, sono obbligato a giocare 3 Veiler e quindi gioco anche 3 Nib, perché giocando 3 Veiler puoi non giocare 3 Nib, no. Passiamo all'Extra, allora... 40 carte, giusto? Sì, 40 carte, ovviamente. L'Extra lo gioco assolutamente non standard perché gioco 3 Ayate, 3 Kagari e 2 Shizuku, molti, cioè tutti, giocano 2 Ayate e 3 Shizuku. Io sinceramente non capisco perché occorra la terza Shizuku, non la fai mai, letteralmente, e non capisco come non occorra la terza Ayate perché, letteralmente, in fase di testing la faccio sempre la terza Ayate, e poi due Zechi, due Zechi perché sono troppo forti, perché la prima la fai spesso e volentieri se fai Nib, la seconda la fai a grind game, ma poi fai Zechi, te la banni, fai Mina, Loppo si ritrova con una carta, rientra Zechi, si spacca Mina e stai con il turo turno per giocare senza Mina e con Loppo che non ha risorse sul campo, quindi vai tranquillamente in plus con l'engage che hai dato prima, o che hai in mano, comunque con le altre carte vai ampiamente in plus. Vabbè, mono di questa, mono di questo, e la combo. Gioco questo qua perché, no, al torneo ho giocato Access Code, però si può giocare sia Access Code sia Zero Bonus. Vabbè, i vari token, e per quanto riguarda la side, sì, per quanto riguarda la side, tre Judgment per andare primo, poi tre Twin Twister e tre Cosmic Cyclone perché sono molto forti, davvero molto, molto forti. Non commento, non commento. Vabbè, mi aspettavo un po' di... Perdere da Twin Crook è bruttissimo. Mi aspettavo un meta abbastanza control, di fatto l'ho beccato e queste carte sono state fortissime. Poi, tre Bell perché la puoi fare su una Deer Servant. E tre di questa puttana. Allora, questa qua la spiego. Questa qua non l'ho mai tirata, ma... Questa qua non l'ho mai tirata, ma è incredibilmente forte. Perché? Perché giocando molte Entrap non posso togliere più di tante magie, quindi non posso mettere più di tanti slot di side. Quindi con la side mi sono trovato un po' corto, stavo a 12 carte, 11 carte, 13 carte. E questa carta è fortissima perché puoi mettere soltanto questa quando sei arrivato al tempo e nel mio mazzo ci arrivi spesso, specialmente se rifletti un po' sulle tue giocate. Poi se attivi Mina il game va un po' per le lunghe, quindi capita che al G3 ti trovi, che ne so, con 5 minuti al tempo e metti questa carta. Non mi è successo durante il torneo, però può succedere. Questa carta è davvero forte in questa lista. La rigiocheresti? Sì, la rigiocarei assolutamente. Questa carta è fortissima. Ok, commenti generali? No, nulla da aggiungere. Il torneo è stato abbastanza facile. Ho perso soltanto quando non potevo proprio vincere. Cioè mi sono trovato epidemic, il virus, il cazzo. L'MVP? Purtroppo ho dovuto perdere. Allora, si vince, si perde, ci sta. Milan non distra, ci sta. Succede. Mi rischio soltanto di non aver vinto la top 4, perché avrei voluto fare a finale il Mirror Match, che era l'unico match che avevo perso durante la Svizzera. Volevo prendermi la mia rivincita, ma sarà quella prossima. Ma lo stagolo più grande l'ha preso in top 4. Eh, lo stagolo più grosso l'ho preso in top 4. È il Cameron che ho beccato in top 4. Il Covid nazionale. Va bene, questo è tutto e alla prossima top. Ciao, ciao.